Una bandiera con il simbolo dell'Aquila e il fascio littorio è stata ritrovata alla sede della CGL di Camuscia. A commentare quanto accaduto e denunciarlo anche alle forze dell'ordine è stato il segretario provinciale della CGL, Alessandro Tracchi. Ma si può leggere solo in una maniera. Io penso che in questo paese ancora non si sia risolto il problema con il fascismo. E quindi come CGL noi abbiamo la necessità di rispondere in modo forte e chiaro, dicendo che la CGL già in quegli anni ha combattuto i lavoratori dentro le fabbri, hanno combattuto i nostri dirigenti, i nostri compagni e compagni iscritti alla CGL perché volevano un paese che fondasse le proprie radici sulla democrazia. E quindi la CGL è stata la colonna portante con il quale si è realizzata la democrazia, la Costituzione e i principi costituzionali che abbiamo difeso fin dal giorno dopo portando la democrazia dentro luoghi di lavoro. Quindi noi non ci lasciamo intimidire. Se qualcuno pensa che oggi il vento stia cambiando, sia cambiato, ecco noi possiamo ben dirgli che noi il vento lo sappiamo orientare bene e gli sappiamo anche a quel vento far gonfiar bene le nostre vele. Quindi non ci facciamo intimidire. Sul caso indagano i carabinieri, la CGL ha chiesto anche che vengano installate delle telecamere di videosorveglianza. Vi siete spiegati perché proprio Camucia? Ma no, io penso che ormai questo sia frutto di tante gesta. Se si pensa a cosa è successo 3-4 mesi fa a Siena, se si pensa che ormai sono episodi quasi all'ordine del giorno nelle nostre sedi o inca o caf, trovare scritte, trovare simbologie che ricordano quel periodo. Quindi ormai noi siamo sotto attacco da diverso tempo. Ne prova l'8 ottobre dell'anno scorso l'assalto alla sede nazionale. Quindi credo appunto ci sia da fare chiarezza e da risolvere definitivamente i problemi con quel periodo e con chi continua a ostentare quella simbologia che, ripeto e ricordo a tutti, non è consentito dalla Costituzione.